Cari amici, questa è la nostra pagina YouTube, il nostro canale YouTube, mi raccomando mettete mi piace, come potete vedere abbiamo delle esclusive dei video originali di Milan, Inter, Juventus, Napoli, Verona, Monza, poi abbiamo anche la Cremonese, poi andiamo anche in Serie B, andiamo ad Ascoli ma non solo, andiamo anche a Como, andiamo in tantissime realtà, abbiamo i video del rugby, del ciclismo, di tutti gli sport e anche cose molto interessanti dal punto di vista culturale. e anche eventi extra, come può essere prossimamente, seguiremo la Fiera del Mobile, come i nostri interventi culturali di poesia e di letteratura. State con noi e mettete mi piace qui sulla pagina YouTube di Oggi Sport Notizie. Grazie, ciao!